Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video all'interno del mio canale YouTube. Prima di iniziare col video ci tengo a fare le mie contoglianze alla famiglia di Galeazzi che è stato per anni un pezzo di storia della Rai e di tutto il giornalismo sportivo italiano. Insieme a lui se ne va un pezzo di storia, tra l'altro Galeazzi, ricordiamoci che fu il primo ad intervistare direttamente negli spogliatori mostri sacri come Platini e Maladona, quindi contoglianze di vero cuore alla famiglia e a tutti i parenti. Quindi Galeazzi, riposi in pace, ci mancherai moltissimo, ci mancheranno morto le tue pelle quando trasmettevi il novantesimo minuto. Detto questo ragazzi, Italia-Svizzera 1-1, Italia che sbaglia in matchball per andare a Catalu 2022. Che dire di questa partita? Primo tempo la Svizzera ha giocato nettamente meglio, Svizzera che trova un euro goal con Widmer dei 25 metri circa, e dopo l'1-0 della Svizzera in 5 minuti potevano fare altri due goal tranquillamente. Tranquillamente ragazzi, la Svizzera avrebbe potuto fare 2-0 e 3-0 nel giro di 5 minuti dopo l'1-0. Italia che si rende pericolosa nel primo tempo con Parella che davanti alla porta spara in poca a Sommed. E poi si rende pericolosa nell'occasione del pareggio con la punizione di Insigne e di Lorenzo di testa. Sommed fa una mezza uscita a vuoto dove tra l'altro colpisce anche Di Lorenzo in faccia. E quindi goal 1-1, si va a riposo con il risultato di 1-1. Secondo tempo dove ovviamente gli svizzeri mettono il pulmo davanti alla porta, fanno le barricate, fino a quando l'Italia che ci prova, ci prova, ci prova, attacca con confusione, ma attacca, attacca, fino a quando Berardi, quel santo che era da pochi minuti entrato nella panchina, si conquista il caccio di rigore, e indovinate un po' chi va sulla battuta ragazzi, ebbene sì, il buon caro Giorginio che manda alto sulla luna il pallone ed è possibile 2-1. Quindi Giorginio sbaglia il terzo rigore di fila, ha sbagliato con l'Inghilterra in finale, proprio con la Svizzera all'antata, e stasera ha sbagliato il rigore del match ball decisivo che ci avrebbe dato l'accesso diretto a Qatar, mondiali Qatar 2022. Che dire ragazzi, Giorginio, tu vuoi vincere il pallone d'oro, pallone d'oro, pallone d'oro, pallone d'oro, e intanto con la Svizzera ci sei costato 6 fottutissimi punti, e se tu sei un pallone d'oro io arzo le mani e vado a chiedere scusa con vari pipponi che avrebbero potuto vincere benissimo in passato a mani basse se tu sei da pallone d'oro, Giorginio. Detto questo ragazzi, in generale, che dire di questa partita? Italia stasera gli sono, parliamoci chiaro, gli sono tremati le palle, gli sono tremati le gambe, hanno forse avuto paura di sbagliare la partita, e giocando con la paura la partita l'hanno sbagliata, ragazzi, hanno sbagliato perché il primo tempo l'hanno fatto in modo osceno, il secondo tempo hanno attaccato in maniera confusionaria, ma comunque ci hanno provato, poi Giorginio è un cazzone che sbaglia il caccio di rigore, su quello non ci possiamo fare nulla, vabbè, pazienza. Ora Svizzera ha la sua partita contro la Bulgaria, partita che al 99% vincerà, e noi per accedere in modo, come dire, diretto ai prossimi mondiali dobbiamo vincere la nostra partita a meno 2-3-0, vediamo cosa succederà. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua, voi nei commenti fatemi sapere di che cosa ne pensate di questa partita, secondo me, oscena, forse la partita dall'Italia giocata in modo più peggiore da quanto Mangini siede sulla panchina della Nazionale, voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, lasciate un like, un commento, condividete tutti i miei video, iscrivetevi al canale YouTube, ragazzi, mi raccomando, è gratis, non vi costa nulla, vi costa solo due secondi del vostro tempo, basta che andate giù e schiacciate col pollicione il tasto iscriviti, in descrizione del video vi lascio anche il mio canale Twitch, dove vado costantemente in live, detto questo, ragazzi, bacione a tutti e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao belli!